Una brutta sconfitta determinata mister dagli episodi, se vogliamo da tre episodi, ecco io li ridurrei così, l'espulsione di Costa, un gol comunque in fuorigioco, viziato dal fallo sul portiere e dal doppio fuorigioco e un rigore chiaramente sbagliato da coda. Questo è proprio il sunto di una partita che poi ha diverse sfaccettature perché paradossalmente in inferiorità numerica il Venevento ha giocato la sua migliore partita contro il Verone. Sì, purtroppo può sembrare riduttivo ma le partite si decidono dagli episodi, specie partite così equilibrate, insomma con squadre forti che possono metterti in difficoltà e possono concederti qualcosa, quindi dopo un primo tempo direi abbastanza bruttino per espressione di gioco, per timore da parte di tutte e due le squadre, perché quello che secondo me stiamo purtroppo sbagliando noi, nel momento in cui c'è sempre quel salto famoso da fare, dare continuità, il momento giusto per dire metto un mattoncino in più e purtroppo facciamo sempre un passo indietro. Il Verone veniva da un momento molto delicato quindi probabilmente c'era più timore che qualità in campo, infatti sono stati tantissimi errori da una parte e dall'altra e poi ci sono stati tre episodi che nel giro di dieci minuti purtroppo hanno condizionato l'andamento della gara. Se sul discorso dell'espulsione ovviamente c'è stato un errore da parte di Costa perché era ammonito e magari poteva temporeggiare e non entrare, sul discorso del gol annullato l'ho detto con grande serenità a fine partita, che noi non ci lamentiamo mai, però è normale che è un episodio che pesa perché un doppio fuorigioco e un fallo come carica sul portiere credo che sia stato fin troppo evidente. Lo è stato per noi dalla panchina quindi in quel caso lì credo che Segnarini doveva aiutare l'arbitro. Poi il calcio di rigore, abbiamo avuto nonostante tutto la possibilità di rientrare in partita e credo se l'1-1 potevamo addirittura vincere perché ci abbiamo provato lo stesso, innanzitutto siamo stati bravi a rimanere in gara, a non farci prendere dalla voglia di andare tutti all'attacco, di mantenere i equilibri. Abbiamo anche stasera dovuto purtroppo saper convivere con alcune situazioni che non volevamo vivere perché è stato di chiara che purtroppo si è fermato dopo pochissimo, stamattina si è fermato maggio e quindi purtroppo la formazione la facciamo sempre minuto per minuto. Come dicevo ieri in conferenza, non è che uno fa pretattica, è che veramente in certe occasioni fino alla fine non sappiamo mai come giocare il modulo e nemmeno i giocatori che abbiamo a disposizione perché poi tra infortuni, tra giocatori recuperati purtroppo poi in momenti di difficoltà accadono tutte le cose messe insieme quindi stasera oltre la squalifica di costa ci sarà anche la squalifica di volta in un momento in cui purtroppo dietro siamo corti è una cosa che capita ma come sempre dobbiamo essere bravi ad andarci sopra, a non cercare alibi, a non cercare scuse però è ovvio che in una partita così, molto equilibrata, tre episodi del genere hanno pesato e purtroppo hanno pesato dalla parte dell'avversario. Ora vado a girare un po' il coltello, in che senso? Abbiamo parlato di questi tre episodi, due in particolar modo mi hanno fatto un po' pensare a delle tue sostituzioni in che senso? Nel senso che vedere dopo l'ingresso di Letizia mi ha fatto un po' pensare quando è uscito di Chiara che chiaramente essendo un difensore dava anche una maggiore copertura un maggiore aiuto a costa che non giocando da tempo non aveva proprio una condizione ottimale dopo quando è stato inserito Gianfi a destra e spostato in prota a sinistra che meno difensore costa ha sofferto di più gli inserimenti di Matos quindi ho pensato perché non inserire prima Letizia sulla sinistra in modo che poteva dare una maggiore copertura ad costa e l'altra invece è la sostituzione di Asensio io l'ho detto, fino ad allora a me è piaciuto molto di più Coda rispetto ad Asensio però Coda in quel momento lo si perdeva mentalmente perché quando sbaglio così un rigore non è più forse la lucidità per continuare a giocare era stata fatta prima del rigore oppure hai pensato niente di togliere Asensio? Il cambio relativo a Gianfi e non a Letizia perché Letizia non stava bene, non aveva volume di gara sarebbe stato rischioso quello di mettergli tanti minuti nella gara non l'ho fatto gioco a titolare per questo motivo devo dire la verità, è stato lui che ha insistito per poter essere disponibile sapevamo che aveva un minutaggio limitatissimo, una mezz'oretta di più sarebbe stato molto rischioso e il cambio l'abbiamo dovuto fare subito, un quarto d'ora e quindi in linea e coerente con quella che era stata la scelta iniziale abbiamo preferito andare avanti così sul secondo cambio, quello di Asensio ovviamente dovevamo occupare bene il campo dovevamo metterci con due linee strette e compatte perché dovevamo rimanere in partita non dovevamo andare all'assalto perché mancavano ancora 35 minuti quindi non era il caso di buttarci là e rischiare magari di prendere subito il gol del 2-0 è vero che abbiamo rischiato purtroppo perché l'unica palla a gocchia abbiamo lasciata è stata su un contropiede, una ripartenza quando non eravamo ancora organizzati e quindi dovevo scegliere uno delle due punte ovviamente la scelta lì è in un attimo ho pensato che Coda comunque sia un giocatore che noi dobbiamo tenere in campo perché per noi è importante lo è anche Asensio però l'episodio del rigore non deve essere una discriminante contro Coda perché credo che un attaccante debba avere la personalità così come ha avuto la personalità di fare lo scavino sbagliando di rimanere in campo e saper recuperare un eventuale errore quindi è stata così abbiamo tenuto un 4-4-1 insomma che credo abbiamo occupato bene il campo poi non è che abbiamo fatto credo una fatica nel contrastarli anzi siamo stati pure più aggressivi abbiamo creato di più, siamo stati più vicini all'area di rigore abbiamo avuto un'occasione nitida con al di là del rigore con Improta che è arrivato lì a due metri dalla porta abbiamo rischiato di far gol abbiamo avuto tante mischiene di rigore queste sono state le scelte però è ovvio che se fossero andate nel verso giusto sarebbero state delle scelte giuste quando si parla di una sconfitta purtroppo al di là di tutti gli episodi di tutte le giustificazioni che potremmo avere siamo sempre dalla parte perdente quindi è giusto accettare tutto Un'ultima curiosità, poi mi taccio Antonio gliele chiesto a Coda perché gli è venuto in mente di calciarlo in quel modo il rigore non l'ha mai fatto tra l'altro poi uno se l'aspetta sul 2-0 sul 2-0 ha il rigore la calci in quel modo però in inferiorità numerica 0-1 il risultato più che altro credo quello io non guardo quando calciamo i rigori li vedo in allenamento Massimo è uno che poi li ho rivisti ovviamente nei nostri video calcia benissimo sia ad aprirlo che a chiudono anche forte centrale ma credo che Massimo abbia sbagliato al di là del gesto tecnico la lettura cioè il momento della partita 6-1-0 sotto un uomo in meno si aspetta in quel momento della partita diventa una partita di cuore quindi anche il calcio di cuore che devi tirare deve essere un rigore di cuore piuttosto una cannonata che poteva andare fuori però uno invece così ha dato l'impressione di leggerezza cioè di non capire che in quel momento lì eravamo in un momento di difficoltà perché eravamo in inferiorità numerica e purtroppo abbiamo subito un gol irregolare ma l'avamo subito quindi ha sbagliato credo la lettura però a fine partita non ho parlato non parlo mai con la squadra perché altrimenti si rischia e questo credo che non bisogna farlo nei momenti positivi di vedere tutto in maniera positiva e nei momenti negativi di essere ipercritici quindi io amo riguardarmi la partita e poi con calma domani, dopodomani parlare con loro analizzare tutte le cose che non sono andate e anche le cose che invece in alcuni momenti secondo me abbiamo interpretato bene Antonio? Sì, allora mentre parlava il mister ciao Cristian mentre parlava il mister ho avuto modo di rivedere attraverso Whatsapp grazie al nostro Paolo Romano l'azione del gol vi confermo che ci sono due fuori gioco sia di Mato lo rivediamo sicuramente lo rivedremo quindi praticamente è anche il fallo su Montipò che stava per rialzarsi e che è stato tirato giù vabbè ma questa è una magra consolazione ma chiediamo anche alla regia di metterlo in modo che anche il mister possa rivederlo eventualmente poi chiaramente per gli amici che ci seguono da casa chiaramente domani sera documenteremo con riprese le varie riprese fatte da varie angolature e così via detto questo che praticamente ci interessa poco andiamo a rimarcare ancora una volta un arbitraggio scadente ma pare che sia un male comune di questa Serie B anche se si stanno rimarcando nei confronti del Benevento perché tutti abbiamo gioito per Palermo ma a Palermo siamo stati penalizzati fortemente da Battista che ha falsato la partita ma questo non ci interessa scusami non è un'inquisizione ma proprio da tifoso non da giornalista in questo momento andate ad approfondire alcuni aspetti legati a questo match innanzitutto Cristian la grande amarezza di stasera ecco allora scusami mi fermo una ha innanzitutto ragione il mister perché non so se quello è da giallo però un arbitro normale non le estrae quel giallo ma non facciamo i tifosi vedete allora ci sta questo a sinistra è già sempre in fuorigioco da quando parte la palla ecco sulla respinta è stato clamoroso perché era proprio oltre tutti insomma si è visto ed è andato addosso al portiere Paolo perché non ci fai un bel fermo immagine lo so che mi senti con qualche eccolo là e già erano tutti due in fuorigioco doppio eccolo qua vedi questo è al di là ecco qua vedete è nettissimo noi ce l'hanno detto gli operatori di Dazon che ce l'hanno detto live poi ce ne sono due mettendo anche che in questo momento era giudicato positivo su questo tiro era ovviamente fuorigioco eccolo qua guarda guarda va addosso a Montivò eh ma c'era doppio fuorigioco e il fallo sul portiere guarda una magra una magra consolazione ecco qua eravamo schierati bene eravamo in netta superietà numerica quindi non serviva entrare ma serviva semplicemente accompagnarlo sì verso magari l'altro compagno ma Costa aveva già fatto una grave ingenuità nel primo tempo e tu ti sei anche arrabbiato dalla panchina c'era il Crescensi che era di spalle all'area di rigore stava andando verso il fallo laterale era chiuso da Buonaiuto da Costa e da Improta e lui ha fatto fallo cioè probabilmente era rientro e così via a me io prendo proprio spunto da questo oggi ancora una volta siamo stati condizionati dagli infortuni maggio all'ultimo momento Viola che è il metronomo del centrocampo e così via hai giustamente dovuto mettere in campo Costa perché Antei mi sembra che abbia detto che non se la sente di giocare prima di anche se a Cosenza secondo me gioco forza di gennaio vabbè queste sono considerazioni è stata una scelta azzardatissima no 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 non è questa la critica no poi ha giocato martedì ha giocato una partita intera pochi giorni fa non gioca da molto la domanda è questa Cristian Costa mancava anche lui da circa due mesi non ricordo 45 giorni e così via anziché di Buonaiuto che era anche in una fase positiva sacrificato a centrocampo e quindi abbiamo giocato con un centrocampo un po' particolare con lo stesso Bandinelli che ha giocato da 5 ma non per colpa sua perché è un ruolo non suo insomma si è dovuto sacrificare e così via non sarebbe non si poteva fare lo stesso discorso per il centrocampo non so un nocerino e un del pinto a staffetta così come è avvenuto con Costa ma allora il discorso di Costa no in modo che non andavamo a sinaturare la squadra no no ma io sono sempre molto chiaro sapete che no no ma infatti proprio perché sappiamo che accetti il confronto perciò ti sto facendo Costa avrei voluto preservarlo ma non per altro perché Costa comunque sia da Foggia aveva giocato 7 minuti a Carpi esatto quindi avrei voluto preservarlo per più motivi uno per dargli più tempo di rintegrarsi con la squadra due perché avendo sia Bill Long che Volta in diffida insomma speravamo di non prenderle però uno deve mettere in preventivo che in questo momento di difficoltà una squalifica insomma poteva pesare quindi per le prossime partite insomma potesse sicuramente rientrare dall'inizio quindi avremmo giocato con Bill Long Volta e Dichiara come difensori centrali e Maggio poi con l'assenza di Letizia con l'assenza di Maggio ho optato comunque sia per tenere uno dei due quinti che fosse un uomo di gamba di spinta perché volevamo fare la partita quindi in prota e Dichiara anche per un altro motivo perché entrambi hanno un ottimo cross avendo due attaccanti con un grande e con grande struttura e insomma ritenevo che fosse insomma un'arma pericolosa per loro in mezzo al campo ho dato la possibilità a Bandineti di giocare da finto play che poi noi giocavamo spesso con un cenocampo a due lui e Teio è buon aiuto che andassi dietro le punte perché secondo me è buon aiuto da finta mezzala è un giocatore che può arrivare spesso al tiro ed essere pericoloso che la sua qualità principale è quella di saltare l'uomo e concludere in porta purtroppo questa sera non è riuscito quindi a posteriori possiamo parlare di tutto magari avremmo messo un uomo un po' più d'ordine però ecco proprio per il tipo di partita che andavamo a fare che avremmo voluto fare volevo giocatori di gamba di inserimento per arrivare al tiro dal limite dell'area o per arrivare al cross quindi mi sono messo buon aiuto Bandinelli e Teio che potessero arrivare al limite e calciare e nel primo tempo l'hanno fatto bene Teio e Bandinelli Scusami se ti interrompo a sinistra ci siamo trovati dopo che c'è stato il cambio di Vigliara con il duello uno contro uno di Costa che è un passo totalmente diverso da Matos diciamo in palese difficoltà con l'improta che non aiutava cioè diciamo che era una sorta di emergenza difensiva ma Antonio no scusi stiamo processando no 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 possiamo parlare ovviamente il discorso è che non dovresti trovarti a campo aperto con lo spazio noi abbiamo preparato delle uscite diverse con un'aggressione molto alta e quindi la scalata dei difensori centrali arriva con gli attaccanti alle spalle e viceversa avevamo nel momento in cui non riuscivamo insomma ad essere aggressivi in avanti quella di essere d'attesa ma non d'attesa perché uno vuol subire ma semplicemente perché così andavamo a togliere quello spazio tra il terzo e il quinto che spesso è quello che mette in difficoltà ma nel primo tempo soprattutto i tempi di aggressione insomma siamo stati un po' un po' è stata la nostra partita nei momenti delicati quando un po' contratti abbiamo sbetto tantissimi passaggi tantissimi scarichi tantissime ripartenze che potremmo sicuramente far meglio abbiamo commesso tanti errori tecnici e questo è stato sinonimo secondo me anche di poca tranquillità strano perché esatto ma soprattutto loro erano malati e contestati infatti è stato purtroppo un momento in cui non ce l'aspettavamo e nel secondo tempo l'episodio è stato credo subito decisivo perché poi dopo eravamo abbiamo cercato di correggere essendo un po' più compatti essendo un po' più aggressivi l'episodio poi ci ha fatto cambiare atteggiamento però paradossalmente quando ci liberiamo dal discorso mentale di dire non mi preoccupo più troppo degli avversari ma faccio le cose che devo fare faccio con aggressività perché devo recuperare abbiamo anche sofferto molto meno abbiamo lasciato meno palleggio agli avversari e siamo stati più pericolosi Senti Cristian ultima cosa poi effettivamente ti lasciamo tranquillo stasera dicevo poc'anzi a Montiporo dicevo anche nella disanima sulla partita dopo tre anni tutto lo stadio ha fischiato la squadra e diciamo gran parte dello stadio ha un poco diciamo inveito nei tuoi confronti ecco come se si vede che c'è una situazione generale molto precaria molto delicata ecco questo l'avverti cosa vuoi dire ti senti in discussione ti senti anche tu colpevole e poi Cristian e questo veramente poi mi taccio ma tutti questi infortuni ma non è che c'è un problema di terreno un problema di preparazione un problema cioè scusa eh però affrontiamo questi argomenti perché altrimenti non verrei se non volessi parlare di queste cose la cosa ti do atto pubblicamente in questo momento nero per te che sei una persona che accetta il confronto nei momenti belli nei momenti brutti e non è da tutti esatto è una parentesi che non c'entra niente con il resto Antonio credo che chi faccia questo mestiere il mestiere dell'allenatore sappia benissimo come possono andare le cose quindi ci sono momenti positivi dove sei profeta e momenti negativi dove purtroppo i risultati non arrivano e ovviamente sei sei in discussione ma io dico sempre che sono il primo che mi metto in discussione perché se vi ricordate vi dicevo che c'erano molte cose che non mi piaceva della mia squadra dopo le vittorie perché credo che uno staff una squadra una società tutti debbano cercare di migliorare sempre e quindi bisogna essere responsabili metterci la faccia sempre e comunque quindi dico certo che mi sento in discussione ma mi ci metto io per primo e credo che la società al di là di quelli che siano gli esiti delle partite e del rammalico che posso provare per le sconfitte credo che abbia i mezzi per poter giudicare il mio e il nostro lavoro parlo dello staff perché ci vede quotidianamente siamo sempre qua quindi il lavoro è sotto i loro occhi credo che se il presidente insomma più volte abbia ribadito pubblicamente la fiducia nello staff sia perché apprezza il lavoro un lavoro costruito da lontano perché poi dopo ovviamente i risultati non gratificano nessuno per aver cambiato praticamente quasi tutta la rosa aver puntato su uno staff completamente nuovo abbiamo cambiato tantissime cose dallo staff medico al campo di allenamento a tutto dopo un anno difficile perché dopo una retrocessione come dico sempre è difficile ripartire e rimettere tutti i pezzi al loro posto come se nulla fosse perché vuoi o non vuoi nella testa della gente c'è legittimamente il ricordo della Serie A la voglia di tornarci è tutto e quindi c'è questa cappa quest'alone che inevitabilmente ci circonda lo è in maniera positiva e lo può diventare in maniera negativa come stasera non dobbiamo sottrarci a questo non possiamo scappare non possiamo essere contenti del nostro pubblico quando in 15.000 ci battono le mani e osannano i giocatori o lo staff lo stesso modo non possiamo lamentarci se stasera usciamo tre fischi evidentemente ci sono da parte della gente delle aspettative che noi dobbiamo essere bravi a saper gestire dobbiamo saper accettare tutto quindi con grande serenità con grande onestà io la squadra la società ci abbiamo messo sempre la faccia e sempre lo farò quindi mi sento in discussione quotidianamente ma da me stesso e la società ovviamente come ho detto prima ha i mezzi per poter valutare il nostro lavoro al di là delle partite anche settimanalmente dicevamo prima il discorso degli infortuni noi prima di Spezia abbiamo fatto perché lo facciamo spesso una riunione con lo staff medico e andando a valutare gli infortuni di natura muscolare sono stati purtroppo maggio e costa e sono stati purtroppo degli infortuni diciamo delle recidive ma a distanza di tanto tempo perché maggio aveva avuto un problemino all'aduttore con il Livorno è rientrato stava bene tutto a posto e poi ha risentito questo fastidio nello stesso punto a distanza di un mese ma in segno era stato un colpo al polpaccio e in proda era stata una ginocchiata quindi davanti a colpi esempio Di Chiara ha preso un calcio sul quadricipide una vecchietta e quindi non è una lesione muscolare data da un sovraccarico di lavoro che farebbe a noi dello staff ovviamente accendere un campanello d'allarme laddove no non credo io stasera ho visto comunque sia una squadra che anche in dieci ha tenuto bene il campo e ha spinto fino alla fine ha provato a rimettere in piedi la partita credo che non sia un problema assolutamente fisico né tantomeno credo che che gli infortuni si possano ricondurre a un discorso muscolare quindi problematica di lavoro siamo stati purtroppo lo dico a malincuore sfortunati su tante situazioni anche perché maggio l'abbiamo lasciato volutamente a riposo ieri a fine rifinitura non si sentiva libero con l'aduttore quindi oggi non era a caso di rischiarlo Letizia ha preso un colpo al torace ed è stato fuori per un colpo al torace lo stesso Viola ha preso un pestone sulla caviglia e è rimasto fuori per un pestone nella caviglia quindi insomma a volte si fa anche fatica Antei e Tuia conoscete il loro percorso Bucata non siamo mai riusciti ad averlo Del Pinto ha preso un pestone a Cittadella credo che con la grande onestà che ci contraddistingue nel nostro lavoro tante volte mi hanno fatto questo tipo di ragionamenti per cercare di capire perché non ci sarebbe nulla di male nel verificare la costanza di alcune situazioni positive e negative che ci devono far crescere e migliorare quindi insomma se ci fossero delle problematiche riconducibili a un discorso fisico sicuramente l'avremmo affrontato l'avremmo valutato e avremmo preso delle soluzioni a riguardo ad oggi non c'è stato quindi il rammarico è questo dichiara si è fermato a Carpi per problemi di respirazione stasera perché ho preso una ginocchiata stamattina mentre facevano il Torello dovremmo non far nulla e dire da stasera ci rivediamo direttamente a Cosenza per evitare così però a Cosenza si torna al 4-4-2 non lo so non lo so Antonio si dovrà dire la verità perché dobbiamo vedere un attimo il giocatore a disposizione perché anche in momenti particolari prima di Spezia lo stesso Asensio cade si lussa la spalla quindi diventa difficile a volte dire ho in testa alcune cose le avrei da diverso tempo purtroppo insomma molte volte siamo condizionati anche in questo quindi il rammarico è quello di non riuscire a fare sempre quello che vorrei ma fare quello che è giusto fare in quel momento è giusto Grazie.